vai vai buono dai se la tenevi è ottima bravo Claudio attacchi bravo dai vieni vieni Leo vieni Leo equilibrio equilibrio va bene fa niente è giusto devi lavorare sull'equilibrio non fa niente va bene oggi che la prendi in faccia sei andiamo ah ho sbagliato e ne facciamo due a sinistra facciamo due di fila a sinistra va bene vai vai va bene va bene va bene non ti preoccupare stai lavorando eh sta eh oh che presa andiamo buono con la punta delle dita dai ancora una dai vieni fuori andiamo uh tanta roba bravo Leo ciao 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 ciao